Non si fa così. Cioè partiti del socialismo europeo. Quello che noi dobbiamo guardare è la sostanza della battaglia in atto. Perché devono nascondere che dentro una parte della destra italiana e oggi noi non abbiamo più il centrodestra in Italia, abbiamo il destracentro perché le forze che in maggioranza stanno dentro quella parte dell'alleanza sono forze che quando possano picconano l'Europa. Quella roba lì esce sconfitta dalla narrazione di queste ore perché tutto quello che sta avvenendo ci dice che cosa, che l'Europa può cambiare, che quando le cose non vanno bene bisogna combattere e l'Italia ci guadagna se si combatte, non se si distrugge. Però vuol dire che non è più lo scontro...